Musica Dottor Raffaele Bagnardi insieme con alcuni di coloro che hanno partecipato alla costruzione della Pire in onore di San Ciro una sua impressione a caldo è il caso di dire? L'impressione non può che essere che San Ciro fa parte della nostra vita perché noi siamo nati con San Ciro tutti gli anni della mia vita immancabilmente al 31 gennaio ho trovato San Ciro, ho trovato la Pira in luoghi diversi, in età diverse ma lo spirito non è cambiato non è cambiato questo spirito di grande tradizione che insieme a persone come loro si mantiene vivo ma non è neanche cambiato lo spirito di devozione nei confronti del santo e tutti gli anni è un abbraccio che la città sta dando e non dimentichiamo che il primo abbraccio che è stato dato a San Ciro lo ha dato un nostro compaesano San Francesco dei Miro e da allora noi abbiando, abbracciando sempre questa fine, questa tradizione grazie, auguri a tutti, auguri a tutti in giro ma a tutti i grottaghesi e a tutti quelli che insieme ai grottaghesi partecipano con questa bella buona riuscita della Pire, buona riuscita della Pire grazie, grazie